benvenuti in questo mio nuovissimissimissimo video oggi vi farò vedere un dopo barba per voi appassionati della rastura parleremo del dopo barba della intesa nel suo intesa sensitive è un bellissimo dopo barba dalla fragranza veramente buona e economico perché questi dell'intesa costano poco non costano molto però bene o male tutti i dopo barba non hanno prezzi allucinanti se andate su quelli commerciali quelli più costosi sono quei dopo barba di nicchia più particolari più per gli appassionati ma questo io ve lo consiglio se avete la pelle delicata perché la pelle delicata perché questo è un balsamo intanto il balsamo si usa per la pelle delicata intanto questo della intesa che è sensitivo perché c'è un altro tipo è ottimo perché anche qui c'è riportato lenitivo anti arrossamento perché comunque se avete il viso come al mio non pallido ma delicato che si irrita facilmente quindi si innervosisce facilmente vedete io mi sono appena arrastato e ho il viso tutto pieno perché ho la pelle delicata quindi questo è ottimo in questo preciso momento della giornata per usarlo nel momento in cui voi avete il viso delicato quindi è consigliato a tutte quelle persone che hanno il viso intanto perché se non avete un viso se non avete una testa non potete usare un dopo barba però se tra l'altro questo è un ottimo dopo barba perché la fraganza buona costa poco e vi do un casino per tutti dopo barba dura tantissimo poi anche la bottiglia è bella se lo volete mettere nel bagno se lo volete lanciare in testa a qualcuno la bottiglia è molto pesante sì è ottimo è buonissimo quindi se volete variare cambiare eccetera e ve lo consiglio assolutamente costa pochissimo e ci vediamo forse meglio forse in un prossimo video